Un'atmosfera pacifica e serena, un timbro morbido e rilassante, un suono lungo e armonioso. Questo è lo strumento che vi farò ascoltare oggi. Ciao, sono Loris Lombardo, musicista, insegnante e costruttore di Antpan. Oggi qui nel mio studio voglio farvi ascoltare un Lombardo Antpan che ho finito di costruire qualche ora fa. Appena finito di intonare ho voluto improvvisarci qualche minuto e l'atmosfera che si creava subito mi ha rapito, ma non per quello che facessi io, ma proprio per la sensazione di pace e tranquillità che lo strumento mi trasmetteva. Sembrava quasi che fosse lo strumento stesso a guidarmi sulla melodia da suonare. Così ho deciso di registrare questo video per farvi ascoltare questo strumento. Consiglio sempre di utilizzare delle cuffie o delle buone casse per una migliore resa sonora. Per scoprire di più su questa magnifica scala e su altri dei nostri Antpan vi consiglio di visitare il sito lombardampan.com a seguirci su Instagram ed iscrivervi al canale YouTube per non perdervi i nostri prossimi video. Bene, vi auguro un buon ascolto. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!